5 milioni di euro è la somma confermata per la messa in sicurezza e il potenziamento della viabilità di accesso del porto di Belvedere Marittimo. L'intervento, incluso nella programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione, una volta concluso tutto l'iter, prevede la realizzazione di un avamporto. L'infrastruttura sarà costituita da due bracci, uno a nord e l'altro a sud, per la messa in sicurezza. Un progetto che consentirà quindi lo stallo delle barche in sicurezza tutto l'anno, al momento il periodo è di quattro mesi. Un interburocratico e amministrativo tortuoso, ma adesso sembra che la strada sia in discesa. Il prossimo passo sarà la conclusione della conferenza di servizi avviata nel 2019. La conferenza di servizi è conclusa, abbiamo tutti i pareri positivi. Un primo passaggio dal Ministero della Transizione Ecologica è già avvenuto, ci ha chiesto delle integrazioni che abbiamo fatto e stiamo rinviando tutto il progetto al Ministero per l'approvazione finale. Sono certo che tutto andrà un buon fine. Il rifinanziamento del porto di Belvedere rappresenta una vittoria per l'intera comunità. Questo intervento permetterà di realizzare una struttura portuale moderna, efficiente e attrattiva, dice l'assessore ai lavori pubblici Francesca Impieri. Sono da tantissimi anni che stiamo seguendo il porto, i progettisti del porto. Innanzitutto devo ringraziare la Regione Calabria, devo ringraziare tutti i progettisti che si sono adoperati a far sì che questo porto verrà realizzato a Belvedere Marittimo. Noi come amministrazione comunale siamo orgogliosi di questo trasguardo che far sì che un porto crea turismo, crea soprattutto visibilità nella nostra cittadina di Belvedere Marittimo.